Al prossimo episodio Al prossimo episodio Un bel pack time E spero di non farlo in ritardo come è successo con i 200 iscritti Speriamo Va bene Detto questo Io vi lascio Io vi lascio Vi lascio il link alla pagina facebook Se mi volete seguire Vi lascio il link anche al mio pubblico as Se volete farmi domande Al mio profilo instagram Se mi volete Se volete vedere le mie foto E al mio profilo snapchat Mi sono fatta snapchat di recente Però l'ho avuto poco E poi che cos'altro Ah è il mio profilo tambro Ve lo lascio sempre in descrizione Bene Detto questo Ci vediamo alla prossima E Kira se Like Eee 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 Grazie.